Ragazzi non ce l'abbiamo fatta, non ce l'abbiamo fatta, come è arrivato in negozio abbiamo dovuto subito mettere in ascolto la nuova edizione giapponese di Amma Gamma curata da Bernie Grurma, Joe Plant e James Gary. Ragazzi è una cosa spettacolare, suona veramente da 10, da 10, poi l'edizione giapponese come tutte le stampe giapponesi hanno un packaging clamoroso, questo è un inserto a colori del retro della copertina, inserto interno con i testi, qui giapponesi, facciamo tutto il tempo reale ragazzi scusate, dietro è neutro e poi il libretto con tutti i vinili che sono usciti in Giappone, guardate quanto è bello, ed è compreso all'interno chiaramente della confezione, pure questo chiaramente magari ci cascano che lo prendiamo, tutti i dischi dei Pink Floyd giapponesi, guardate quanto è bello, quanto è bello, allora copie limitatissime, le trovate tutte su www.penistike.com, copertina ovviamente apribile, 180 grammi ma secondo me è un 200, veramente veramente una grandissima edizione, andate di corsa a prenderlo, Amma Gamma Pink Floyd made in Japan, daie!